C'è una cosa, aspetta, 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 mi è venuta la geritata Allora, voi fate quelle che controllate, una volta tante, quindi dico, ah bene, a posto, è bene E' un video Questa della mamma, ok, fatti vedere, mamma mia, vuoi dire tu, a posto, ok Mamma, paparappa A posto, aspetta, com'era? A posto L'angolo controllo, adesso a posto, i controlli, i qualità, c'è Il volume pure Tacca-tam Compo di volume DJ Compo di volume C'è un volume Bloc E A A A A A A A A A Grazie.